Tu hai mandato a ficiaci, levati dai coglioni, tu ti devi levare dai coglioni, allora cazzo, come è? Allora, adesso con la tua preoccupazione di merda, hai rotto il cazzo, dai coglioni, levati dai coglioni, tutti te li levare dai coglioni, ok? Tu te li devi andare di qua, no, non ce li li ha di scatare, siamo qua, siamo qua, e allora ti devi dare cazzo, Grazie a tutti. Grazie a tutti.